Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve e bentornato su Fusion. Oggi vedremo un'altra animazione di testo e in particolare vedremo come creare un animate in di un testo utilizzando i mascherini. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Dopo aver visto nel precedente tutorial dedicato a Fusion un esempio di animazione di testi e in particolare abbiamo parlato di scrolling verticale di una serie di testi o di titoli, oggi andiamo avanti e vediamo un'altra animazione molto utilizzata. Parleremo sempre di TextPlus in quanto sono compatibili con i tool presenti all'interno della Fusion Page. Nell'esempio di oggi parliamo di Lower Third, cioè di quei testi che compaiono nella parte bassa del video e in particolare nel lato sinistro o nel lato destro. Ci tengo a precisare che se devi fare delle semplicissime animazioni di testo non complesse oppure il testo deve rimanere statico, non occorre lavorare sulla Fusion Page, ti è sufficiente fare tutto all'interno della Edit come abbiamo già visto nei tutorial dedicati alla Edit Page. A tal proposito ti consiglio di seguire la playlist dedicata alla Edit. Oggi vogliamo dare delle animazioni accattivanti il più possibile ai nostri testi sfruttando i tool di Fusion. L'animazione di cui ci occupiamo oggi è tramite dei mascherini traccia, cioè andiamo ad aprire un testo sfruttando i mascherini traccia. Vedremo che cosa sono e come si utilizzano e soprattutto come si animano. Allora, ora ci creiamo però un TextPlus direttamente dalla Edit Page e lo andiamo a posizionare sul lato inferiore sinistro dello schermo. Andiamo ad aprire l'Effect Library, andiamo nella sezione Titles e andiamo a prendere TextPlus. e lo trasciniamo in traccia 2 per tutta la durata del video. Ora, selezioniamo TextPlus, chiudiamo l'Effect Library per dare spazio, apriamo l'Inspector, andiamo a cambiare il testo Bike Park. Ok, adesso cambiamo il font, andiamo a prendere ad esempio un Mistral, andiamo a modificare il Size, poi andiamo nel tab di Layout e andiamo a spostare il Center per andare a metterlo in posizione. Restringiamo un altro po' il Size. Adesso andiamo dentro la sezione di Shading e andiamo a cambiare il colore. Magari andiamo a prendere un gradiente, voglio fare semplicemente una transizione dal nero passando per il bianco e ritornando al nero, dando molta forza ai colori scuri in modo tale che il testo si veda bene. Quindi cosa faccio? Vado a mettere il nero qua, che c'è già, vado a mettere il nero sulla seconda parte del gradiente che corrisponde alla parte alta del testo, quindi seleziono sul bianco e anche qui vado a scegliermi un nero, quindi adesso il testo sarà totalmente nero, però vado nel punto centrale e vado a prendermi un colore grigio in modo tale da dare risalto al passaggio. Magari lo faccio un po' meno incisivo, il grigio quindi avvicino i due punti di nero in modo tale da dare grigio solamente più o meno al punto centrale, mi restringo un altro po' il size del testo e questo può essere il nostro testo text plus che abbiamo creato all'interno della edit page. Adesso con l'indicatore sopra al text plus vado sulla fusion page e qui mi ritroverò esattamente il mio bike park. vado a cambiare nome al mio template, quindi faccio tasto destro Rename e lo chiamo ad esempio bike park, faccio ok e adesso facciamo un altro testo da mettere come sottotitolo al testo principale, quindi per crearlo seleziono tutti i nodi e vado a cliccare su text all'interno della fusion page. Questo text plus è stato quindi realizzato interamente all'interno della fusion page mentre bike park deriva da un text plus creato all'interno della edit page. Adesso lo posiziono qua sopra, vado a scrivere anche qui il mio testo, lo chiamiamo ad esempio reveal, premo lo shortcut 1 per aprirlo nel monitor 1, andiamo a prendere sempre un mistral anche in questo caso. Adesso devo mettere in merge questi due nodi, cioè questi due testi devono convivere assieme. Un modo veloce per poterlo fare, che non abbiamo ancora visto, è prendere l'uscita di output di text 1 e collegarla all'output di bike park. Viene creato in automatico un nodo di merge dove all'ingresso di foreground, quindi all'ingresso superiore, viene messo text 1 e all'ingresso di background bike park. Lo seleziono merge 1 e su merge 1 premo 1. Magari attivo solo questo, così mi concentro su quello e adesso vado a posizionare reveal. Quindi seleziono il mio text 1, premo F2 per cambiargli il nome. Ok, con il nodo reveal selezionato, andiamo sul layout e cominciamo a spostare il nostro nodo di reveal. Lo mettiamo sotto, ok, quindi andiamo poi sul sizing e cominciamo a rimpicciolire il sizing. Quindi lo facciamo un po' più piccolo, andiamo a portare su un po' ancora la Y e poi andiamo a lavorare sul tracking, in modo tale da allargare la spaziatura tra i caratteri. Così andiamo a coprire la linea del testo superiore. Ecco che abbiamo creato due testi legati al nodo di merge. Adesso riposiziono bene il mio node editor per dargli un po' un aspetto un po' più presentabile. E adesso cominciamo ad animare i nostri testi. Allora, come prima cosa io voglio andare ad animare il testo di bike park, cioè voglio fare in modo che questo qui piano piano compaia in apertura come se fosse una tendina dal basso verso l'alto. Allora, cosa faccio? Mi vado a creare un elemento solido fatto a rettangolo collegandolo all'ingresso maschera di bike park. Allora, seleziono bike park, vado a cliccare sullo strumento rettangolo e vedete che in automatico viene messo all'ingresso effect mask di bike park. Cioè questo rettangolo fa da maschera alla scritta bike park. In effetti adesso bike park non si vede perché la maschera, cioè il rettangolo, apre solamente questa zona e non questa. Per capirci meglio adesso prendiamo bike park. Lo apriamo nel monitor 2, quindi sul monitor 2 apriamo bike park. Sul monitor 1, premo lo shortcut 1 su rectangle e mi vedo il mio rettangolo. Vedete, questo è il mio rettangolo. Lui fa vedere unicamente questa parte e questa parte viene mascherata e quindi il testo non si vede. Allora, adesso vado a prendere il mio rettangolo e comincio a spostarlo fino a che faccio combaciare il margine superiore del mio rettangolo con la parte inferiore del testo, in modo tale che inizialmente il mio testo non si vede. Adesso mi posiziono semplicemente all'inizio della mia area di render, sempre con il rettangolo selezionato, vado nella sezione chiamata center y, quindi la posizione del rettangolo e vado ad animare la posizione. Vado a 20 frame dall'inizio e qui faccio ultimare la mia animazione. Come si fa a ultimare la mia animazione? Vado a prendere la mia y del rettangolo e la tiro verso l'alto e vedete che piano piano il testo si apre. Se io adesso mi vado a spostare il mio indicatore del tempo vedrò un'animazione del testo che pian piano si apre fino a comparire in 20 frame esatti. Adesso facciamo la stessa cosa anche su Reveal. Quindi seleziono il nodo Reveal, lo attivo sul Viewer 2, poi vado sempre a cliccare il mio rettangolo per creare una maschera rettangolare all'ingresso di Reveal e lo attivo sul Viewer 1. Adesso l'ingresso di Reveal, cioè l'apertura, la voglio fare da sinistra verso destra. Quindi cosa faccio? Prendo il mio rettangolo, lo porto in basso e faccio combaciare il margine destro col margine sinistro della scritta. Questo è il mio punto iniziale. Quindi porto il mio indicatore del tempo al punto iniziale dell'area di render, attivo la mia animazione, ora mi sposto a 20 fotogrammi e mi sposto con la X del mascherino fino ad aprire tutto il testo. Cioè dopo 20 frame il mascherino va a sovrapporsi al testo e quindi lo apre perché tutto quello che sta fuori dal mascherino non si vede, quello che sta sovrapposto al mascherino si vede. Adesso torno indietro con il mio indicatore del tempo e vedete che c'è esattamente questa apertura da sinistra verso destra. Adesso vediamo come si svolge tutta la cosa. Vado su media out, lo accendo nel viewer 2, attivo solamente il viewer 2 così lo vediamo bene, facciamo il play e vedrete che in 20 frame si apre il testo. Lo rivediamo. Lo rivediamo. Lo rivediamo anche all'interno della edit page, quindi andiamo sulla edit. vedete che sta facendo il render cache su disco e ora facciamo il play e il testo si apre. Ecco questo è un primo semplice esempio di utilizzo dei mascherini per aprire e quindi rivelare un testo all'interno della clip. È uno strumento molto utilizzato e combinando insieme delle maschere più o meno complesse e si riescono già solo con questa tecnica a creare delle animazioni accattivanti e perfettamente funzionali al proprio progetto. Avremo modo poi in futuro di entrare ancora in merito a questa tecnica utilizzandola anche per esempi più complessi. Se hai delle domande in merito all'utilizzo dei mascherini traccia per le animazioni di testo ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial su Impara Da Vinci Resolve e a sabato per il prossimo tutorial dedicato a Fusion.